signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e negli ultimi mesi siamo scesi molto nel dettaglio sui png le loro organizzazioni come introdurli ai giocatori ma mi sono reso conto però che abbiamo girato molto intorno a un punto senza mai andarlo a cogliere nel suo succo cioè a che cosa serve un png questa è un'altra di quelle cose che sono apparentemente scontate p png sono i personaggi che muove il master il master ha bisogno dei png per fare la quest questo però è un altro di quella lunga lista di casi di ragionamento a critico per cui si utilizza un qualche tipo elemento di gioco semplicemente perché convenzionalmente si fa così tutti quelli che abbiamo visto masterare fanno così e quindi evidentemente le cose devono essere fatte in questo modo ora non che non debbano essere fatte in questo modo ma se non ci si ferma a riflettere sul perché le cose vengono fatte in quel modo alla fine si rischia di utilizzare le cose come in questo caso i png semplicemente così perché bisogna farlo senza stare a riflettere su quello che si sta facendo e quindi si rischia di andare a fare le cose male o proprio in maniera sbagliata e ovviamente come master k e non posso permettermi che voi facciate delle cose sbagliate e adoro perdermi in dissertazioni su minuzie del gioco quindi in questo video andremo proprio a vedere qual è la funzione o meglio le funzioni che i png devono assolvere all'interno di una storia e perché queste funzioni sono importanti al di là dell'ovvia domanda rettorica certo ovviamente i png sono importanti per la realizzazione di una quest di una storia di una campagna di quelle preferite e sì la loro utilità è quella di svolgere una serie di funzioni fondamentali si potrebbe fare una quest senza png casi estremamente particolari piuttosto ne parleremo in un video successivo però comunque i png sono come funzione generale l'interfaccia che i giocatori hanno con il mondo sono le cose a cui i giocatori possono effettivamente fare domande interattive questo però è in linea generale il loro ruolo quello che è importante è andare a vedere nello specifico cosa questo significa cioè quali sono i ruoli fondamentali che i png vanno a svolgere all'interno del gioco di ruolo come per molti e altri elementi del gioco di ruolo possiamo dividere le funzioni dei png in due macro categorie fondamentali la funzione meccanica e la funzione narrativa cominciamo con la funzione meccanica cioè qual è il ruolo che i png devono andare a svolgere rispetto alle procedure di gioco cominciamo a fare un distinguo parliamo di procedure non strettamente di regole le regole fanno parte delle procedure ma per procedure si intende tutto quello che deve accadere tutto quello che ha senso accada all'interno di una sessione magari ne approfondiremo più avanti adesso andiamo con ordine l'ostacolo avversa i personaggi giocanti durante la loro impresa questa probabilmente la funzione più comune che un png va svolgere all'interno di una storia se nessuno cercasse di ostacolare i personaggi giocanti nel compiere la loro impresa la storia sarebbe poco interessante perché sarebbe troppo facile per i giocatori questa è una categoria volutamente vaga perché al suo interno racchiude proprio tutti i png che servono come ostacolo per il party probabilmente il caso più comune è il png che fa parte di un incontro di combattimento cioè qualcuno che deve andare proprio a picchiare i personaggi giocanti per fermarli diciamo questo come già in prima distinzione tra regole procedure questo è un modo in cui i png di ostacolo vanno a influire sulle meccaniche proprio sulle regole del gioco usando le regole del gioco loro cercheranno di ostacolare i giocatori che siano poi le regole di combattimento vero e proprio cioè devono picchiarsi ma potrebbe essere altri sottosistemi interni al gioco che state giocando potrebbe essere un combattimento di tipo sociale il png vuole cercare di far fare brutta figura ai giocatori o magari sta cercando di ingannarli il mercante che vuole far pagare ai giocatori più soldi di quello che dovrebbero per l'equipaggiamento che ha in vendita rientra comunque in questa categoria un png però potrebbe ostacolare i personaggi giocanti senza agire direttamente sulle regole ma su appunto le procedure di gioco su le grandi ma categorie che i giocatori devono andare ad affrontare il malvagio barone potrebbe usare la sua autorità in quanto nobile all'interno della fiction per impedire a tutti gli armaioli del regno di vendere armi ai personaggi ora non necessariamente il regolamento che state usando ha una regola che permetta al barone di eseguire una prova per impedire i commerci però è qualcosa che riguarda la procedura del gioco cioè i giocatori devono avere equipaggiamento per fare le quest se gli viene impedito di prendere equipaggiamento loro saranno svantaggiati quando poi dovranno fare gli altri incontri alla campagna quindi comunque questo sarebbe un ostacolo anche in questo caso magari i giocatori non potrebbero riuscire a sconfiggerlo applicando semplicemente le regole dovrebbero a loro volta utilizzare l'influenza i loro personaggi o potenzialmente anche no potrebbero semplicemente fare un tiro per convincere l'armaiolo avendegli le armi in nero non è questo il problema ricordatevi però che rientra sempre nella stessa macro categoria sia che si tratti di incontri proprio spiccioli in cui si tirano dadi sia che si tratti di magari antagonisti di lungo corso che quindi non interagiscono in maniera diretta tramite le regole quei pg un png può avere la funzione di risorsa cioè fornire ai personaggi giocanti qualcosa di cui abbiano bisogno questa la possiamo vedere come la funzione opposta a quella precedente il png da ai personaggi qualcosa che sia qualcosa di tangibile materiale o qualcosa di più metafisico comunque contribuisce in una maniera significativa alle risorse del party per permettergli di andare avanti nella loro impresa il png potrebbe semplicemente essere qualcuno che vende o comunque procura ai giocatori delle risorse materiali di cui hanno bisogno gli vende le armi gli vende il carburante quello che è ma potrebbe anche avere altre mezzi o capacità che tornino comunque utili ai personaggi potrebbe essere qualcuno che trova informazioni che gli permettono di capire meglio quello che sta succedendo intorno a loro o magari è qualcuno che permette ai giocatori di spostare velocemente i personaggi da una parte all'altra del mondo di gioco perché è un mago che potete trasportare perché il capitano dell'astronave che gli spostano un pianeta all'altro all'interno di questa categoria ricadono poi in linea generale tutti quei personaggi che fungono da gregari e assistenti per il party sia che svolga una funzione materiale sia qualcosa che viene lasciato magari in secondo piano nella quest potrebbe essere proprio il mercenario che combatte i mostri insieme al party potrebbe essere l'assassino che i personaggi pagano per andare ad ammazzare il png e nemesi senza doversi presentare in prima persona ma potrebbero benissimo essere i contadini che lavorano le terre del regno dei giocatori e quindi lo rendono prospero per loro che magari non ha una effettiva regolazione meccanica ma è molto utile a livello di procedura di gioco sapere che il regno è prospero la seconda funzione è quella narrativa cioè il ruolo che il png svolge all'interno della fiction del gioco che poi è l'argomento di cui abbiamo parlato principalmente negli ultimi mesi non voglio dilungarmi troppo su questa parte perché ne abbiamo già parlato estremamente nel dettaglio negli scorsi video però per avere un riassunto generale magari a favore di quelli che sono arrivati a poco sul canale diciamo che all'interno di questa macro categoria abbiamo anche qui dei focus degli archetipi di personaggio molto precisi gli antagonisti e gli alleati forniscono ai personaggi giocanti un motivo per andare a intraprendere le loro missioni abbiamo già visto molto nel dettaglio quali sono poi tutti i ruoli all'interno di questa categoria nel caso vi lascio un link a un video qua in alto se volete andare a vedervi i dettagli diciamo però che in linea generale alleati e antagonisti sono quelli che danno una motivazione esterna ai giocatori per fare in modo che i loro personaggi interagiscono con il mondo di gioco gli antagonisti ovviamente saranno lì per mettere in pericolo i personaggi giocanti e tutto quello che i personaggi giocanti ritengono importante e quindi i personaggi dovranno muoversi per andare a sconfiggere il loro avversario comunque impedire che portino a termine la loro opera di distruzione gli alleati al contrario saranno lì per spiegare ai personaggi giocanti perché è importante che gli antagonisti vengano sconfitti e per aiutarli e rifornirli mentre andranno a compiere l'impresa alcuni di questi alleati o potenziali alleati potrebbero ricadere però nella categoria degli obiettivi cioè quei png che sono il soggetto dell'impresa che gli avventurieri devono compiere in questo caso l'obiettivo potrebbe essere qualcosa di molto diretto abbiamo visto l'archetipo della principessa che è il personaggio che deve essere salvato dal cattivo in questo caso appunto l'azione dei giocatori verso il png sarà diretta il png ha bisogno dei giocatori i giocatori devono fare qualcosa per aiutarlo potrebbero anche essere in maniera indiretta gli abitanti del villaggio devono essere salvati dalla tirannia del malvagio barone non è una singola azione specifica una singola missione che gli eroi dovranno fare per salvarli dall'influenza malvagia potrebbe essere il tema di un'intera quest però fondamentalmente loro rimangono l'obiettivo della quest cioè queste persone devono essere aiutate o salvate in linea di massima diciamo che gli obiettivi sono tutte quelle entità esterne che spingono i giocatori a compiere la missione specifica teoricamente fosse anche solo perché li pagano per andare a fare la missione un png però potrebbe anche avere la funzione di essere un esempio per i personaggi giocanti la presenza di un png infatti può essere importante per fare in modo che il master possa far vedere ai giocatori una particolare comportamento una particolare caratteristica del mondo senza che il master debba andarsi a prendere in lunghe spiegazioni campate dal nulla per dare le informazioni ai giocatori che gli servono per comprendere l'ambiente circostante i giocatori potranno capire cosa è considerato normale o cosa è considerato strano all'interno del mondo di gioco dalle reazioni che i png avranno agli eventi e allo stesso modo potranno capire anche qual è il loro ruolo all'interno del mondo di gioco e altre caratteristiche fondamentali del mondo semplicemente perché il modo in cui il il master descriverà le azioni il comportamento e le opinioni dei png sarà appunto l'esempio che i giocatori dovranno seguire per rendere i loro personaggi coerenti con l'ambientazione in un mondo in cui fare l'avventuriero è considerata una professione nobile ed eroica i png tratteranno i personaggi giocanti come eroi li tratteranno bene si combineranno e diranno che loro stessi se potessero vorrebbero fare l'avventuriero ma in un mondo in cui fare l'avventuriero è la tua ultima spiaggia dopo e qualsiasi alta possibilità di carriera ti è preclusa ecco probabilmente i png in quel caso tratteranno male gli avventurieri e gli chiederanno ma chi glielo fa fare di fare quella vita non potrebbero trovarsi qualcosa di più onesto da fare tipo andare a rubare giochi specifici o regolamenti specifici potrebbero poi prevedere usi specifici dei png diciamo che questa non vuole essere una trattazione generale approfondita più che altro un riassunto di tutta una serie di cose che negli ultimi mesi abbiamo in realtà accennato senza mai dire esplicitamente quindi non è tanto importante che voi rispettiate pedissequamente questo schema quello che è importante che voi ogni volta che pensiate di inserire un png all'interno della vostra quest riflettiate sul fatto se quel png abbia effettivamente un ruolo importante da svolgere e quanto è importante quel ruolo perché ogni png in un modo o nell'altro sottrarrà tempo alla narrazione quindi sottrarrà tempo ai giocatori sicuramente riempire il vostro mondo di gioco di png unici pittoreschi e particolari lo renderà non solo più memorabile ma anche più verosimile e vi aiuterà a presentarlo ai giocatori in modo che sembri un mondo reale o comunque realistico in quello che succede però ogni volta che introducete un png dovrete usare del tempo di gioco per spiegare chi è questo png e far agire il png e ogni png si porta dietro un carico cognitivo per i giocatori perché i giocatori dovranno ricordarsi qual è il nome qual è il ruolo magari potrebbe essere importante il retroscena del singolo png che i giocatori dovranno tenere a mente senza contare che voi questo retroscena questo nome tutto il lavoro intorno al png dovete farlo quindi domandatevi sempre se merita la pena dare questo carico di lavoro in più a voi e ai vostri giocatori per quello che il png rende poi in gioco o se non c'è un modo molto più facile per fornire le stesse informazioni gli stesso aiuto o lo stesso esempio i giocatori in una maniera più semplice davvero il locandiere ha bisogno di un retroscena in cui lui una volta era un avventuriero come te prima di prendersi una freccia nel ginocchio avere una famiglia con moglie tre figli che lavorano nella locanda la locanda ha un nome una storia a sua volta se l'unica funzione che quel png all'interno della storia è indicare agli eroi dove il dungeon più vicino magari no i giocatori potrebbero semplicemente trovare una mappa o comunque potrebbe essergli indicata dal locandiere semplicemente il locandiere non ha bisogno di avere tutto questo retroscena per essere la persona a cui quando i giocatori vi chiederanno chiediamo in giro per la città se qualcuno sa di un dungeon voi potete semplicemente rispondere incontrate poi un locandiere che ve lo indica e poi tagliare direttamente i giocatori che si avvicinano all'ingresso al dungeon ma magari sì perché non necessariamente quella è la sua unica funzione all'interno della storia magari il rapporto che lui ha con la sua moglie e i suoi figli potrebbe essere indicativo di come funzionano le famiglie nella vostra ambientazione se magari ci sono delle informazioni particolari da riguardo e magari il fatto che lui una volta facesse l'avventuriero lo rende poi utile per diventare un mentore o comunque per fornire altre informazioni utili ai giocatori e anche la storia della locanda potrebbe liberarsi rilevante per la quest quando dopo varie missioni che cercano l'antico tempio andato perduto scoprono alla fine che in origine quella locanda era il tempio che poi è stata riconvertita in questo caso sì avere molte informazioni per quel png e dare molte informazioni riguardo ai giocatori sicuramente ha meritato sia il vostro tempo sia il loro carico cognitivo nel caso di prima no palesemente no non ha neanche bisogno di avere un nome ovviamente voi siete gli unici che possono valutare se un png è importante o meno e quale sia la migliore funzione che debba svolgere all'interno della vostra campagna io come consiglio vi dico di valutare molto bene le vostre esperienze di mastering precedenti e analizzare per capire se effettivamente avete messo dei png che hanno fatto perdere più tempo all'azione di gioco di quello che meditavano o se al contrario vi siete resi conto che a un certo punto vi serviva qualcuno che parlasse ai giocatori o comunque svolgesse una specifica funzione che non avevate previsto e quindi avevate dovuto inserirlo in fretta e furia con il rischio di rendere cose approssimative o semplicemente farle male e magari scrivetelo anche qui sotto nei commenti per evitare che gli altri facciano i vostri stessi errori diciamo comunque che questo video estremamente tecnico me ne rendo conto finisce qua come sempre se avete domande dubbi perplessità scrivete tutto nei commenti se il video vi è piaciuto lasciate un like condividetelo creduto a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco dal gruppo i telegram dove metto io le notifiche dei video manualmente dove si raduna anche la community del master kai che adora quando faccio questi video lunghissimi per il resto io sono il master kai e noi ci vediamo al prossimo video